Il famoso cantante inglese Elton John potrebbe essere al festival di Sanremo, la Kermess Canora, la Kermess di musica che si svolge ogni anno nel periodo primaverile. Ma non mancherebbero polemiche per quanto riguarda la presenza di questo straordinario cantante inglese a questo festival 2016. Infatti alcune persone, ma non tutte, si sarebbero per così dire immolate per criticare aspramente la presenza del famoso cantante inglese. Qualche politico si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni un po' troppo forti, secondo la mia opinione, e per l'appunto si sarebbe limitato qualche politico a esporre un pensiero utilizzando parole che, a mio parere, quindi secondo la mia opinione, ripeto, potrebbero essere considerate non condivisibili. Insomma, Elton John è per me un grande artista, un artista completo, eclettico, capace di rendere ogni canzone bella grazie alla sua capacità di cantare. Cantare non è così semplice come sembra, ma questo cantante, lasciatemelo dire tranquillamente, ha dalla sua il fatto di saper gestire in modo perfetto questo suo dono, il canto, utilizzando tutti gli strumenti che egli possiede e dando una, per così dire, connotazione maggiore e migliore in campo musicale alla, per l'appunto, musica. Scusate che sia chiaro ciò che ho voluto esprimere attraverso questo video e non ci siano problemi di sorta. Ringrazio voi tutti per l'ascolto, iscrivetevi, commentate, quindi aspettiamo quello che accadrà, ma intanto sarebbero le vostre notte del buon Elton John, un cantante eclettico completo, che purtroppo sarebbe stato, ripeto, al centro di ogni polemica da qualche politico per via della sua eventuale presenza a Sanremo, che ripeto, non so se effettivamente sia sicura al 100%, ma effettivamente c'è in qualche maniera nel web una voce che lo vuole proprio al Festival di Sanremo 2016. Un saluto e a presto.